Alla 12.30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente, ma con tale chiarezza da non lasciare abito a dubbi, una successione ritmica dei tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Mosso. I segnali, cioè, che secondo gli ordini da me, in partito, venivano lanciati nello spazio della stazione di Polgiu sull'altra sponda dell'oceano. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.